Francesco, Sofia, metterebbe questi nomi ai suoi figli e nipoti? Sì, sono dei bellissimi nomi, sì, perché no? Nomi italiani e belli. Sì, sono due bei nomi, quindi... Sì, sono Francesco e Francesco, poi sono un nome qua a lungo, non so da dove venga la destinazione. Beh, figlio ormai ho risolto il problema anni fa, Francesco sicuramente sì, Sofia un po' meno. Anche Sulmona rispecchia il trend nazionale, sono Francesco e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori italiani e Adam e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori stranieri residenti nel bel paese. Lo rileva l'Istat nel report natalità e fecondità della popolazione residente. A Sulmona piace il nome Francesco, che mette d'accordo la gran parte degli intervistati della nostra raccolta di opinioni, meno entusiasmo sul nome di Sofia. A livello nazionale si conferma il primato del nome Francesco, che si è rafforzato tra il 2013 e il 2014, in seguito, verosimilmente, alle elezioni di Papa Francesco. Il secondo nome più frequente è Alessandro, seguido da Leonardo, che però è il nome preferito a livello territoriale, in ben dieci regioni, raggiungendo un primato. Sofia, Aurora e Giulia si confermano i nomi più diffusi tra le bambine, con frequenze che distanziano decisamente tutti gli altri nomi femminili. Sofia è anche il nome più frequente in quasi tutte le regioni.